Mi chiamo Fiona Hart, ho una compagnia di ballo e tu hai veramente un enorme talento. Hai qualcosa di speciale, Luca. Non puoi perdere quest'opportunità. Sono pronto. Non voglio scuse, non ce la fate? Grazie tante e avanti un attimo. Lavoreremo qui tre settimane e poi voleremo a Los Angeles. Tutto quello che desidero lo voglio avere qui, tu con me, una nostra famiglia! Ma questa è la grande occasione della mia vita. Zucchero! Stai attento ai passi! Vuoi un consiglio sincero? Mettiti a fare altro. Nemmeno per sogno. Facciamolo questo cazzo di show! Ok, sei della famiglia. Così te ne vai a Hollywood. E ti ordino di venire a cena con me. Sai perché ballo? Non sempre si può restare a guardare. Buona fortuna, mi avrete bisogno. Devi solo promettermi che alla fine staremo insieme. Finora non è sempre accaduto.